Sono Orrella Campo, dirigente del liceo scientifico Fermi di Ragusa. Il lavoro che intendiamo presentare oggi è un lavoro che pone in particolare il focus nell'utilizzo dei dati del report in Barsi 2020-2021 al fine di poter evidenziare qual è la relazione esistente tra quelli che sono i processi di innovazione metodologica didattica introdotti nella pratica con particolare riferimento al momento di interruzione della didattica in presenza e quindi l'avvio durante il lockdown della didattica a distanza e quelli che sono i risultati raggiunti dagli studenti nelle prove standardizzate ma anche nella valutazione interna. Il nostro è un liceo scientifico che opera su un contesto socioculturale medio-alto con tre indirizzi di studio, nuovo ordinamento, scienze applicate e indirizzo sportivo che partecipa da sempre alle somministrazioni delle prove in Barsi con una buona partecipazione anche degli studenti sia delle seconde che delle quinte con dei risultati che già in periodo pre-lockdown superavano la media sia del sud delle isole ma per alcuni item ma anche rispetto all'Italia sia in italiano sia in matematica e in inglese. All'indomani quindi dell'avvio della didattica a distanza superato il primo periodo di disorientamento dell'istituzione scolastica si è cercato con il successivo anno quindi dall'inizio dello scorso anno scolastico e di coinvolgere direttamente i dipartimenti di italiano, inglese e matematica al fine di evitare che la didattica a distanza potesse arrecare abbassamenti rispetto agli esti di riapprendimento degli studenti. Io avvierò questa prima parte della presentazione del lavoro e poi nella seconda parte mi seguirà e seguirà il tutto la professoressa Paladino che è lì in presenza con voi in qualità di referente della valutazione della scuola. La professoressa già da anni segue i processi di autovalutazione della scuola e i percorsi di miglioramento che la scuola ha messo in atto quindi sarà lei stessa poi a mostrarvi dall'analisi del report imparsi 2020-2021 che come sapete ha coinvolto gli alunni soltanto delle classi quinte nella secondaria e seconda grado quali sono stati effettivamente i risultati che dimostrano la relazione che esiste tra i processi che i dipartimenti hanno messo in campo all'interno della scuola e quelli che sono i risultati che la scuola ha raggiunto. Quindi finita questa fase di disorientamento si è avviato tutto un lavoro che ha coinvolto da un punto di vista metodologico non soltanto le attività in presenza ma anche le attività curriculari ma anche le attività di ampliamento dell'offerta formativa andando ad investire come elementi caratterizzanti l'innovazione metodologica la metodologia CRIL in prospettiva di miglioramento dei S dicevamo e per andare ad evidenziare la rigaduta positiva del processo di insegnamento nel periodo della didattica a distanza. I partecipanti a questo progetto sono stati i studenti delle classi quinte di tutti gli indirizzi della scuola. Questi studenti che poi hanno partecipato al 100% alla rilevazione in Varsi sebbene lo scorso anno poi non era effettivamente obbligatoria per poter accedere all'esame di Stato ma loro nonostante questo partecipato e per noi rappresentavano peraltro un target di riferimento molto significativo perché anche con il ritorno adesso della didattica in presenza non avrebbero potuto comunque fruire di ulteriori possibilità visto che comunque erano degli studenti in uscita all'interno della scuola. Quindi l'oggetto del lavoro di ricerca di cui adesso la professoressa Paradino presenterà gli esiti tende a comparare utilizzando le prove in Varsi come la diminuzione generalizzata che si è evidenziata a livello nazionale e quindi in tendenza rispetto al resto del paese ha coinvolto nella nostra scuola in particolare le discipline di italiano e matematica e invece non ha, adesso vedremo anche il perché, non ha coinvolto l'inglese che invece ha avuto una effettiva realizzazione di una percentuale significativa di innalzamento dei risultati sia in reading che in listening in controtendenza con quanto è avvenuto anche a livello nazionale. Quindi abbiamo potuto verificare utilizzando il report in Varsi per venuto a settembre che in italiano e matematica la maggior parte degli studenti che si posizionano nelle fasce di livello 2 e 3 calano rispetto alle percentuali di studenti posizionati al livello 5. Quindi in tendenza con quello che è il dato italiano il lavoro evidentemente svolto nei dipartimenti di italiano e matematica ha presentato dei punti di criticità rispetto a cui dovremmo diflettere. Probabilmente la data non ha facilitato la didattica laboratoriale e ha penalizzato la scrittura e l'esercizio matematico propedeutici peraltro anche allo svolgimento delle prove scritte dell'esame di Stato. Invece in inglese come dicevo prima abbiamo registrato un incremento molto positivo della percentuale di studenti che raggiungono il livello B2 in tutti e tre gli indirizzi peraltro anche quello sportivo che in genere manifesta all'interno del nostro istituto scolastico un caro rispetto agli altri due indirizzi quindi hanno raggiunto invece una percentuale elevatissima il livello B2 in tutti gli indirizzi sia nel reading che nel listening e le prove di posizionamento delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese coerenti con il quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue è pienamente in linea con l'attività didattica curriculare ma anche di ampliamento dell'offerta formativa dell'istituto. un'attenzione particolare nella lettura dei dati daremo anche agli esiti degli studenti stranieri e andremo a vedere ma adesso la professoressa meglio di me vi potrà esplicitare anche con la visione dei grafici che il 100% degli studenti stranieri ha evidenziato competenze linguistiche posizionabili tra la fascia B1 nel listening e la fascia B2 nel reading prego professoressa a lei la parola per il proseguo grazie preside buonasera a tutti continuo con la presentazione del nostro lavoro partiamo dall'analisi dei risultati in inglese in reading e listening la nostra scuola abbiamo sintetizzato molto il grafico la nostra scuola per quanto riguarda il reading si posiziona un livello di percentuale raggiunta dagli studenti del livello B2 dell'88,2% e se lo confrontiamo al risultato regionale e anche al risultato nazionale ci rendiamo conto che il risultato è pienamente soddisfacente per quello che ci riguarda la stessa cosa ovviamente con percentuali lo leggete con percentuali un po' minori lo vediamo si è verificato nel listening siamo al 67,1% molto superiore al risultato della regione Sicilia 19,6% e abbastanza rispetto al risultato nazionale in realtà noi siamo partiti dall'analisi comparativa dei risultati della precedente prova somministrazione del 2018-2019 sempre sulle classi quinte ovviamente che vedevano dei già buoni risultati che in realtà sono stati superati per quanto riguarda il livello B2 con le ultime prove quindi aumenta leggermente la percentuale di studenti che non raggiunge il livello B1 siamo all'1,2% contro lo 0,5% del 2018-2019 diminuisce la percentuale di studenti che raggiunge il livello B2 invece aumenta la percentuale di studenti che è B1 scusatemi invece aumenta la percentuale di studenti che raggiunge il livello B2 devo dire che noi in totale abbiamo l'anno scorso avevamo 161 studenti suddivisi in 8 classi 4 di nuovo indirizzo nuovo ordinamento 2 di indirizzo scienze applicate e 2 di indirizzo sportivo significativo il risultato dell'indirizzo sportivo qui andiamo un po' dentro i numeri solo due studenti su 161 perché il 100% ha effettuato le prove invasi pur tra lockdown chiusura classi in quarantena insomma la tipologia di somministrazione della prova la prova somministrata al computer il tempo ampio che viene dato alle scuole per somministrare la prova ci ha aiutato particolarmente perché siamo stati in grado di poter far svolgere le prove a tutti quanti gli studenti che non si sono per niente rifiutati di effettuare la prova stessa quindi vi stavo dicendo per il reading siamo a 143 studenti su 161 che raggiungono il livello B2 il risultato per noi è eccezionale per me è importante parlare alla fine di tutte le sessioni abbiamo ampiamente sentito che i livelli del sud oggi ne parlava anche lei i livelli del sud in tutte le prove sono ampiamente più bassi noi in realtà ma anche negli anni precedenti ci posizioniamo in una classifica importante a posti elevati perché evidentemente ci si crede e se guardiamo il dato comparato con il livello nazionale noi la nostra scuola raggiunge l'88,8% contro il 49,3% dell'Italia quindi è il dato nazionale la stessa cosa come avete visto prima un po' con percentuali minori 108 studenti su 161 raggiungono il livello B2 e gli altri solo uno solo uno studente non raggiunge nemmeno il livello B1 importante dire che non è questo studente non è uno studente straniero è vero che non abbiamo un'elevata percentuale di studenti stranieri circa il 3,5% rispetto il 3,5% però ci siamo resi conto che probabilmente la lingua inglese è una lingua veicolante e quindi gli stranieri non hanno non soffrono una inferiorità di prestazione come ci siamo spiegati questo miglioramento attraverso l'utilizzo di una metodologia efficace chiaramente non è una metodologia riscontrabile solo utilizzata dai colleghi di inglese solo nell'ultimo anno o nel periodo del lockdown ma essendo la prova sottoposta a classi quinte è un lavoro sistematico che viene portato avanti e il lockdown fortunatamente non ha interrotto le buone pratiche del dipartimento di inglese quindi ce lo siamo spiegati così attraverso un'attuazione del curriculum verticale completo ed efficace e poi l'adozione di un approccio comunicativo sistematico finalizzato allo sviluppo integrato di competenze l'uso sistematico della didattica integrata e anche di numerosi software didattici e poi l'implementazione della metodologia CLIL che viene attuata non solo nelle classi quinte ma in maniera sperimentale anche in tutte le altre classi e questo chiaramente poi alla lunga porta a dei buoni risultati la metodologia prevede un utilizzo intensivo dei laboratori per consentire lo sviluppo delle abilità fondamentali l'uso di software come vi dicevo prima e poi una particolare accurata attenzione anche nella scelta dei libri di testo in maniera da consentire e praticare continuamente l'utilizzo di una lingua comunicativa questo è quello che ci risulta dall'analisi quindi una lingua che in qualche modo diventi una lingua parlata ma anche una lingua poi tramite quello che si fa attraverso il CLIL integrata da un linguaggio più tecnico un linguaggio più specifico e quindi un raggiungimento di competenze importanti a questo all'attività didattica si affianca nell'ampliamento dell'offerta formativa una importantissima progettazione per che riguarda il conseguimento di certificazioni linguistiche B1 B2 ma anche C1 Invalsi ci consente di verificare livello B1 e livello B2 ma moltissimi nostri studenti e questo anche questo noi ci siamo spiegati raggiungono il B2 perché in realtà hanno già il C1 e poi la presenza del mediatore culturale quando ce n'è la necessità per gli studenti stranieri e anche nelle quinte classi la presenza di docenti madrelingua che affiancano i docenti curriculari quindi vengono chiaramente supportati aiutati sempre nell'utilizzo pratico della lingua e questo ci siamo resi conto che questo esalta la motivazione dello studente perché lo consente immediatamente di potersi esprimere in maniera efficace i nostri risultati quindi il risultato della nostra analisi dimostra che la quota degli studenti che raggiunga il target delle indicazioni nazionali delle linee guida è più elevata rispetto al resto del paese e anche in crescita nonostante il lockdown rispetto alle somministrazioni precedenti questi dati già li abbiamo visti le riflessioni conclusive noi dai dati abbiamo ragionato sulla corrispondenza tra le valutazioni invalsi e le valutazioni degli insegnanti che abbiamo trovato assolutamente in linea e quindi i risultati ottenuti sono quelli che ci aspettavamo se non superiori ci siamo resi conto che la metodologia ha un impatto positivo sugli esiti raggiunti e quindi utilizziamo continueremo a utilizzare e ci serve soprattutto per le prove di italiano e di matematica dove scendiamo rispetto al 2018 2019 ma ci manteniamo sempre a livello di molto superiore al territorio siciliano e in alcuni casi anche al territorio nazionale però gli ultimi dati ci faranno riflettere anche su un miglioramento metodologico per quanto riguarda le altre due discipline bene grazie